Salve a tutti, benvenuti ragazzi in un nuovo video tutorial barra guida di Pokémon sulluna sempre qui sul canale di Rochette ovviamente Allora ragazzi, scorso episodio abbiamo catturato UC02 Eleganza, quindi se non lo avete visto ragazzi e non sapete come fare vi invito ad andare a vederlo perché ragazzi abbiamo catturato UC02 Mentre in questo episodio si cambia argomento e passiamo finalmente a UC03 Quindi ragazzi siamo di nuovo qui nel motel Andirivieni di Akala dove abbiamo chissà chi qua in questa stanza Abbiamo lui, il re dei postgame, bell'occhio con un personaggio particolare Oh Luke, ciao ti stavo aspettando Chi abbiamo qui? Abbiamo un bel capitano dell'isola di Pony se non ricordo male, quello che si incontra in quell'isola Questa volta ho tenuto le informazioni su UC, in me che non si dica Ok, sto già sovviando il perimetro UC03 Lumen, agente 836 E inizia la missione così ragazzi Allora in questo video vi dico subito che ci saranno dei tagli perché se no ragazzi verrà un video troppo lungo E dato che un video guida non deve essere tipo un video di 20 minuti, non ha senso Quindi alcune cose le taglierò, ve lo dico già subito ragazzi Ciao Ciao Rika Questa ragazza è della sveglia, la nostra informatrice Sveglia proprio, veramente incredibilmente sveglia guarda Ok, bell'occhio, potevi anche scegliere meglio questa informatrice però Mi hanno chiesto di portarvi questo messaggio, forse hanno avuto a trovarmi qualcosa da fare perché non mi sto occupando della prova Ma va? Io credo di no guarda, vabbè Oh, un messaggio da parte di chi? È un segreto Ah, aspetta però, avevi anche un altro ordine o era una richiesta? Ovvero Mi hanno detto di affrontare Luke in una lotta Pokémon come si deve, non ho capito bene il perché, forse per testare la sua forza Ad ogni modo lottiamo Ragazzi, evidentemente io questa lotta qua ve la taglierò perché tanto, come vi dico, è una guida sulla UC03, non su questa lotta Perciò, una volta che, appunto, finirà la lotta, ci rivedremo qui su, appunto, il motel di dove c'è bell'occhio Ok ragazzi, eccoci qua, abbiamo sconfitto questa capitana, mi ha veramente fatto il culo con il suo Pokémon tipo folletto perché sono veramente forti Wow, la tua forza è un capolavoro E vinciamo un bel po' di soldi, ce neanche tanti ma un pochino ne vinciamo dai, big money proprio del, della regione di Adola Oh, capita, come pensavo Luke è davvero forte Lo so Però anche la ragazza sveglia, è in gamba, è sveglia in gamba Bene, io torno a casa allora Bene, allora ragazzi, finalmente si è levata di torno la cara capitana dell'isola di Pony Ok, quindi che era la nostra informatrice Che informatrice mi dicono Ok, passiamo alla missione, ci dà 10 UCBall come ogni missione Ragazzi, anche se le UCBall come vi dico sono molto molto efficaci sulle Ultra Beast Sulle Ultra Creature Molto bene, quindi Adesso chiediamo un po' a bell'occhio dove si trova UC03 Almeno potremmo andare a raggiungere, vorrei altre informazioni, grazie È una terribile Ultra Creature che controlla l'elettricità Giungla Ambrosa e il Colle della Memoria Ok, molto bene Quindi Io direi di buttarci proprio direttamente ragazzi Eccola qua, l'ingresso è questo ragazzi Molto bene E sentiamo già la host nella giungla Ambrosa Molto molto significativa su chi possiamo trovare in questo luogo oscuro Ok Il problema come vi dico è che io farò Un tentativo barra 2 E poi taglierò Dipende se la trovo oppure no Come vedete non l'ho trovata Quindi come vi dico è abbastanza rara questa Ultra Creatura Nessuno ha detto che sarà facile Infatti ragazzi fidata di questa probabilmente Delle due che abbiamo catturato precedentemente Forse è quella più difficile Anche perché come vi dico non si fa trovare È molto molto timida se così posso dire Quindi occhio Eccoci qua ragazzi Eccoci qua Il momento è arrivato L'ho trovata UC03 Quella che controlla l'elettricità Ultra boost Immancabile Diventa Incredibile Attacco speciale aumenta di molto Quindi ragazzi I suoi attacchi elettrici Saranno veramente Paurosi 65 Non è roba da poco questa Non è roba da poco questa UC03 Ok Io provare a combattere Con la sua stessa elettricità Per provare a vedere quanto resiste Resiste abbastanza Mi dico Scarica Mi farà malissimo Mi farà malissimo Ragazzi avete visto che potenza Ultra boost Ancora una È folle È folle È letteralmente folle Questa ultra creatura Cioè Feromosa Ovvero UC02 Elegantia Era Già lei di su Abbastanza potente Ma questa Cioè Sono sempre più potenti E quello è bello Ok Bando alle ciance Via UCBall Ok Beh Prima che mi faccia troppo male È meglio evitare brutte sorprese E non ci sta Neanche E non ci sta Neanche E mi farà fuori Tutto il team Se continua così Quindi Devo fare molta attenzione Perché continua A boostarsi Il dannatissimo Attacco speciale Ok ragazzi Come vedete La situazione si sta Leggermente complicando Più del previsto Molto più del previsto Perché pensavo di catturarla Subito con una Simpaticissima UCBall Come spero di fare In questo momento Ne ho 24 Quindi Le ball ci sono Il problema è che io Ho solamente 6 pokemon 1 2 Dai 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 Collabora Devi collaborare Uhhh Godo Ragazzi non ci sta Non ci sta Non è che non posso Indebolirla Se la indebolisco Mi fa fuori il turno dopo 1 Dai Dai Devi starci 2 3 E la volta buona Dai Non ci sta Non ci sta Scarica Mi sa che Zarina Ci saluta Eh si Eh si No no Non esiste ragazzi Non resiste Ultra boost Ancora una volta Questa qua è Veramente inferno E l'inferno Sceso sulla regione Allora Questa Lycanroc Prova Prova almeno a reggere Qualcosa Please Non abbandonarmi Almeno tu Oh mio dio Quanto è difficile Altro che UC01 UC02 Questa è letteramente Più forte E neanche le UCBall Bastano Ragazzi Neanche le UCBall 2 Dai Ci stai Ok Vedi che l'Icanroc Mette un po' di paura Ogni tanto Bravo l'Icanroc Tu si che sei un pro Ok Ragazzi La prima è andata Se non sbaglio Ce ne andiamo due A catturare Ok 2 Xur Sur 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 Vabbè ci sta Ok Dovebbe essere tipo Elettro Puro Sur Circuitry Mamma mia L'ho letto giusto Attenzione E' veramente Impronunciabile Il suo nome Però è molto strana Come ultracratura Questa UC03 Elettro Pokemon Luminaria Arrivato attraverso Un ultravarco Si ritiene che la sua Fonte prima Di energia Sia l'elettricità Che dato che Ha attaccato Una centrale elettrica Ok Semplice Come Come descrizione Ok Inviamolo al pc Molto bene E una È andata Molto Molto Bene Delicato Ancora una Eccola qui ragazzi Anche la seconda L'abbiamo trovata Finalmente dopo Un po' di tagli Che ho fatto Per non farvi vedere Tutti i seratici Che ho trovato E appasso il secondo Sur Circuitry Ok E si boost Ancora una Ragazzi mi sono curato Nel frattempo Che ho fatto Un taglio Sembra un po' Un albero di Natale Con tutte quelle luci Con questa Ultra boost Che si è beccato A 65 Intanto Che mi farà Veramente il culo Di nuovo Però Devo sfruttare Ragazzi Di nuovo Il primo turno Per attaccarlo Con ira della natura Questa volta Lo attacco Perché Lo devo Sostamente Nebolire Prima che si boosti Troppo L'attacco speciale Con scarica È devastante Un uc Guardate che roba Con una Scarica boostata Mi fa fuori Tapu Koko Non Non Fibas Non Cioè Tapu Koko Ragazzi Tapu Koko Quindi Penso che prima L'Ikara ho capotato bene Vediamo se porta bene Ancora una volta La sua Veramente Il suo aspetto Tenebroso Mamma mia Fantastico Ragazzi Siamo in difficoltà Con questa uc Quindi andai di nuovo Di uc Ball Vai uc Ball Reddimi fiero di te Piccola sfera Uno Dai Stavolta siamo a metà vita Devi entrare subito Tre E beh Stavolta ragazzi C'è entrata subito Stavolta è andata A buon segno Dal tonno Ce l'hanno andata apposta Per catturarle Questo uc Ball Quindi A voglia Siamo a posto Secondo Su 3 Catturato Abbiamo completato Ragazzi la missione Insomma Su uc 03 Agente cos'è 836 C'è ancora Ragazzi questa musica È fantastica Catturato tutte le uc Ok quindi la zona È stata in qualche modo Disinfestata La host Delle uc È veramente qualcosa Di fantastico Veramente azzeccatissima Cioè fa proprio pensare Che si può succedere Qualcosa di brutto Al mondo intero Dove si esce? Si esce di qua Giusto Ok molto bene Ragazzi adesso Facciamo rapporto Al caso Al nostro capo Ovvero Bellocchio In questo caso Il re del Dei post game Dei giochi pokemon Ormai ragazzi È ovunque Bellocchio Nei giochi pokemon In parte Nei post game Veramente È sempre presente lui Quindi Il motel Ce l'abbiamo subito Qua alla portata Io direi quindi Di andarci E di parlare con Bellocchio Magari c'è anche Alberta Chi lo sa Molto bene Bellocchio Ho fatto di progressi Grazie Magnifico Che ce l'hai fatta Richiamo subito il capo Ok ma tutte le volte Vediamo un po' Che ci dice Alberta Questa volta Eccola qui Molto bene Solita scena Ragazzi con Bellocchio E Alberta Ci dirà qualcosa di importante Sulla prossima UB Ok sono soliti trasmessi C'è la centrale che ci cede Grazie a Luke Ok Lumen Detto lumen E beh Conduta con la luce Con quell'attacco speciale Tipo elettro Ci sta perfettamente Sì dai È di nuovo stanca Povera 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 Alberta E vabbè Ok È un pochino stanca Beh riposati Nessuno ti vieta di riposarti Cioè ci pensa Luke Eh Rocet Non il primo Il primo che passa Voglio dire Siamo il campione di Alora Di nuovo Di nuovo ragazzi Augusto Che entra senza permesso Vediamo un po' Cosa dici Se qualcosa dici Sulla prossima UC Ovvero UC Le 04 Insomma Tutto bene Ok Ma tu Ah Agente Da quanto tempo Ah è a lui Agente 836 Oh si spiega tutto Ecco perché Quel nome incolce Per la missione Nella grotta Nella foresta Ok Col mostro Propulus E Aula Aula Ah ok Quindi la prossima UC Ragazzi Che appunto Che troveremo Nel prossimo episodio Si trova Aula Aula La terza isola Grazie mille Augusto Il cauno di appunto Di Aula Aula Di tipo buio Molto bene Molto bene Bell'occhio Ancora dici qualcosa Oppure no Bell'occhio Si Se non a gusto Per caso Beh sarà stato suo capo Immagino no O no Niente Ci concentriamo sulla missione Molto bene Per me E meglio così Ok Quindi ragazzi La prossima volta Ci troveremo Al motel Di Aula Aula Supercorso 13 Perciò ragazzi Io come sempre Vi invito a lasciare un bel like Per far si che La maggior parte delle persone Vedano il video Il video tutorial E non abbiate iscritto al canale Se il video vi è stato utile Noi ragazzi Ci vediamo alla prossima puntata Nell'isola di Aula Per Ucciderlo 4 Quindi Un saluto a Rochette E ovviamente Bye bye ragazzi